Ciao, oggi vi presento i ramponi Simon. Non avendo legami commerciali con la Simon, né con la Decanton che distribuisce questo prodotto, questi ramponi entrano a far parte delle mie Genuine Review. Eccoli qua, questi ramponi hanno visto i 4.500 metri di capanna Margherita, ti faccio vedere un piccolo video, capanna Margherita. Grazie. Bene, ora andiamo a vedere i dettagli. Grazie. 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 punte 4 come vedi sul tallone 6 nella parte centrale e 2 in punta nonostante il pezzo economico hanno l'anti zocco ecco qua ecco qua questo impedisce la formazione dello zocco di neve fra i damponi e lo scarpone io sono rimasto soddisfatto soprattutto per la tenuta sia in salita grazie a questi denti frontali sia in discesa soprattutto nel pezzo diciamo finale per raggiungere capanna margherita sono universale quindi vanno bene con qualsiasi tipo di scarpone basta magari che siano scarponi da da montagna chiaramente poi taglia unica cioè va dai 35 ai 48 di misura degli scarponi secondo me è un buon rapporto qualità prezzo poi ci sono affezionato perché mi hanno permesso di arrivare a capanna margherita per me era un sogno se ritieni utile le mie recensioni ti ricordo di iscriverti al canale e di lasciare un commento ciao